... Yamada, dunque il Giappone in questo momento va in quinta posizione bisogna ancora vedere Watanabe e Fukasawa andiamo a rivedere adesso il volteggio della Andrade che ha ottenuto 15.166 rondata, flick mezzo, salto teso con un avvitamento in mezzo quasi perfetto da tutti i punti di vista per l'ampiezza, la compostezza, la tenuta, l'allineamento veramente abbiamo già parlato della grande esplosività di questa ginnasta anzi proprio a causa della sua esplosività a volte specialmente quando si esibisce al corpo libero commette degli errori come andare fuori pedana che è segno di potenza mentre la Kinsella ottiene 13.133 e in questo momento la Gran Bretagna è in terza posizione mamma...